è lei regina elisabetta seconda discende da una lunga stirpe di re e regine britannici e nel corso dei secoli la regina è arrivata ad acquisire diversi bizzarri possedimenti nella sua posizione di monarca come capo di stato del regno unito la regina ha enormi ricchezze e possiede una moltitudine di corone e gioielli ma potresti essere sorpreso di sapere che la regina possiede anche diverse proprietà e animali iconici nel regno unito ecco solo sette delle cose bizzarre che la regina possiede come monarca della gran bretagna delfini e balene la regina possiede tecnicamente tutte le balene i delfini e le focene che si trovano entro tre miglia dalle coste del regno unito la proprietà del monarca di queste maestose creature risale al 14 secolo il re edoardo secondo emanò uno statuto nel 1324 che diceva il re avrà relitti del mare in tutto il regno balene e storioni catturati in mare o altrove all'interno del regno tranne in alcuni luoghi privilegiati dal re cigni la regina ha la prerogativa su tutti i cigni in inghilterra e galles e ogni anno si svolge un evento speciale chiamato suon hooping il lunedì della terza settimana di luglio si svolge il cigno che funge da censimento annuale della popolazione di cigni in un tratto selezionato del tamigi il sito web della famiglia reale spiega una flottiglia di barche a remi tradizionali del tamigi presidiata da suon hoopers in camice da canottaggio scarlatte e guidata da the queens suon marker che indossa un cappello con una piuma di cigno bianca rema costantemente lungo il tamigi tutti in piedi piangono quando viene avvistata una famiglia di cigni e signets e gli suon hoopers posizionano con cura le loro barche intorno ai cigni li sollevano dall'acqua e controllano la loro salute l'iconico viaggio di cinque giorni a monte di suon marker è stato una cerimonia annuale per centinaia di anni e oggi ha due obiettivi chiari conservazione ed educazione un bancomat privato nonostante il fatto che la regina non porti con sé contanti diversi rapporti hanno suggerito che la regina abbia il suo bancomat a buckingham palace secondo la serie di channel 5 secrets of the royal palaces il bancomat è arrivato per gentile concessione della banca esclusiva cats